Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco, bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi realizzerò un tot di video perché è un bellissimo sabato uggioso quindi se nel caso nei video di questa settimana, della prossima settimana, sentite dei suoni in sottofondo sappiatelo che effettivamente è sabato 22 giugno e fuori sta diluviando di brutto ho fatto parecchie letture in questo periodo, se mi seguite su letture da treno, buona parte le avete già viste qualcosa ho di arretrato, quindi ho delle settimane belle e piene di robe di cui parlarvi fondamentalmente ma iniziamo questa settimana, come al solito il lunedì è dedicato a Topolino il Topolino 3317 dedicato ad una storia con Topolino e i, diciamo, padre e figlio Bruto e Gancetto ci viene ancora segnalato il fatto che siano gli 85 anni di Paperino per quanto non mi sembra ci sia all'interno di questo numero una storia dedicata a Paperino o se c'è una storia decisamente minore, andiamo a vedere il contenuto di questo numero nello specifico il volume inizia con una storia in due puntate, Topolino e il settimo corvo di Francesco Artibani per disegni di Lorenzo Pastrovicchio è una storia particolare che devo dire a me è piaciuta tanto 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 è un misteri giallo spionistico che cerca di indagare, mostrarci i due personaggi che abbiamo visto in copertina quindi Topolino e Gancio, ma anche il figlioccio di Gancio, Gancetto che si trova in una situazione di pericolo infatti c'è una qualche agenzia, un qualche gruppo spionistico che ha determinati interessi in quel di Londra che ha rapito Gancetto, lo sta usando per i suoi fini spetterà a Topolino e Gancio cercare di aiutarlo partendo per Londra e insomma indagando in maniera anche abbastanza sottile è una storia che sicuramente vuole essere molto adrenalinica una storia, se vogliamo, sotto certi aspetti di altri tempi non è una storia che si trova spesso sul Topolino che ha qualche eco Gottfersoniano e qualche eco Scarpiano quindi si riprende un po' alcuni concept di questi autori con un Topolino e un Gancio che vogliono riflettere principalmente sul ruolo e il significato di famiglia i disegni di Lorenzo Pastrovicchio sono semplicemente ottimi sapete che è un disegnatore che a me piace particolarmente è un disegnatore che ho sempre detto apprezzare in una chiave un pochettino più ipertrofica in situazioni e in storie un pochettino particolari ma dopo la rilettura e riscoperta dell'autore di questo disegnatore in una chiave un pochettino più tradizionale grazie al primo Topolino Flash Edition devo proprio ammettere che è uno stile dannatamente versatile e che anche in storie più ordinarie più quotidiane senza bisogno di creare mostri, cose strane robottoni, mostri ipertrofici o quant'altro riesce a mostrarci la grazia e la bellezza del tratto disneyano Francesco Artibani dal canto suo riesce ad essere come al solito una trama bella articolata, bella complessa con tante sfaccettature, con tante diramazioni ma che riesce a contenere all'interno di una storia in due puntate con grazia e abilità riuscendo forse più qui con Topolino che nelle avventure di PK a creare un giusto equilibrio tra le parti è una storia che è stata pesantemente criticata anche nei forum o meglio se ne è parlato molto perché in alcune vignette ci sono situazioni che lasciano intendere l'uso di armi che magicamente spariscono e riappaiono tra le mani dei vari antagonisti quindi è una storia anche ad alto tasso se vogliamo di criminalità di corruzione e quant'altro insomma è una storia che vuole essere un pochettino più matura sotto certi aspetti ma in alcuni casi ci sono degli scivoloni evidenti con mani che stanno chiuse a pugno come se tenessero in mano una pistola pistola che non è presente e se effettivamente in alcuni casi ci può stare che si voglia minacciare qualcuno dimostrandogli che si vuole usare la forza in altri contesti ci sono pistole che ci sono in una vignetta in quella dopo no per ritornare due pagine dopo nelle mani dello stesso personaggio elemento che effettivamente è un po' strano anche perché effettivamente è coerente che dei criminali nel mentre che stanno compiendo un'azione criminale impugnino delle armi ma che posso capire in un'ottica di quella che stiamo vivendo adesso una fase di transizione in cui diverse storie sono già realizzate già completate le stanno utilizzando eliminando gli elementi che potrebbero essere un pochettino più vistosi politicamente scorretti o boh possibili di non lo so perché si bisogna censurare le armi in una storia Disney visto che sono sempre state presenti fin dai tempi di Floyd Godferson ma dall'altro lato immagino che Disney madre casa madre america voglia un uno stile molto più edulcorato molto più family friendly adatti a tutti però capiamoci non è la pistola in sé a non essere family friendly ok non è quello secondo me il problema massimo però posso capire l'esigenza che c'è insomma ci sono qualche piccola sbavatura per lo più legata a questo per il resto è una storia che secondo me se ti riesci a prendere non ti fa vedere troppo non ti fa pesare troppo questi elementi che però sono ahimè presenti una prima storia quindi in due puntate davvero ottima che penso possa essere tra le migliori storie di questo 2019 o perlomeno potersi vantare di essere tra le migliori storie anche grazie al uso di gancio e gancetto personaggi che penso si siano visti pochissimo insieme personaggi decisamente minori ma al quale sembra che Francesco Artibani voglia dare un imprinting uno slancio maggiore magari per un futuro uso in altre sue storie o magari di altri colleghi così come è stato qualche anno fa per Vito Stabile che ha ripreso il personaggio di Paperetta Yeye che è poi stato utilizzato in maniera anche decisamente valida da altri autori basta vedere Dax on the Road dei coniugi turconi dove sì in Dax on the Road non mi ha fatto impazzire la storia ma Paperetta Yeye era un gran bel personaggio insomma prima storia decisamente promossa pieni voti si prosegue con la storia di Lorenzo Camerini per i disegni di Roberta Mighelli Zebo Perone Rockredak e la corsa Point Nemo storia di una classicità allarmante con Rockredak e Zebo Perone in viaggio per vincere una qualche sorta di scommessa iniziata al club dei miliardari quindi nulla di nuovo sotto il sole e basta fondamentalmente non c'è veramente nulla di realmente innovativo anche la trovata finale per cui alla fine vince chi deve vincere perché bla 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 è un pochettino una roba trita ritrita perché spesso volentieri in queste battaglie sempre che vinca Rockredak ma poi succede qualcosa per cui in realtà vince Zebo Perone anche qui nulla di nuovo divisivamente parlando è una storia carina chiaro che da Lorenzo Pastrovic e da Roberto Mighelli lo scarto è enorme i due segnatori sono entrambi bravi ma chiaramente Lorenzo Pastrovic ha decisamente delle marce in più per quanto la Mighelli abbia uno stile un pochettino personale ma comunque interessante e niente in realtà storia già trita ritrita quindi se siete lettori di vecchia data sarà una trama che vi sembrerà di aver già visto chissà quante volte già qualche spediente narrativo un pochettino interessante però è una storia che sta bene in questa posizione media lunghezza ma con qualcosina da dire ti proseguo con una storia di Pietro Bizzenero per i disegni di Lara Molinari Archimede la creatività artificiale Archimede non ne può più non sa più cosa inventare inventa un robottino che dovrebbe aiutarlo ad avere fantasia e creatività non mi ha detto nulla non mi ha detto nulla anche perché Archimede in teoria ha per questo il cappello pensatore che da anni che non si vede quindi ce l'ha già un aiuto alla creatività ideata da lui stesso e in questo caso qui il fatto che questo robottino sia un pochettino sopra le righe non mi ha detto alcun che è una storia breve quindi si lascia leggere c'ha le sue piccole gag non sicuramente tra le storie di Pietro Zemelo che mi abbiano fatto impazzire forse una delle prime che non mi fa impazzire semplicemente si lascia leggere Giulio D'Antona e Roberto Marini ci presentano Paperoghe la disarmonia musicale universale per il ciclo Paperopoly Film Festival peccato che il ciclo sia finito qualche tempo fa in quella storia qualche storia fa era stato detto qualche numero fa era segnato che era l'ultima storia quindi in teoria era un'altra storia pensata per quell'occasione ma che poi è stata slittata qualche numero dopo senza essere pubblicizzata come tale ok però c'è il c'è proprio il l'iconcina che ce lo segnala il che mi ha fatto davvero davvero pensare visivamente parlando Marini a me piace molto pulito molto classico uno stile personale che quindi lo differenza da tantissimi altri autori quindi sì stile classico ma col tempo personale quindi una connube piuttosto particolare a mio parere la storia io vi giuro io vi giuro nel mentre che c'è stato voi avete visto un taglio è stato un taglio di diversi secondi perché l'ho sfogliata perché non me la ricordavo più c'è Paperogue che per qualche motivo crede di essere un buon tecnico dei suoni un buon quello che crea i suoni nei film fondamentalmente che c'è una figura addetta agli effetti sonori alla creazione di questi e non me la ricordo io vi giuro io vi giuro l'ho sfogliata adesso nel mentre che c'è stato il taglio che tra una storia e l'altra perché non la ricordavo e oltretutto ho visto l'ultima pagina ah è giusto che finiva così ma come si arrivava al finale non lo so è una storia che non mi ha lasciato che mi ha lasciato così talmente tanto poco che non ricordo che cosa succede all'interno della storia dovrei rileggerla per giudicarla davvero ho un totale vuoto il che mi fa dire ed è una delle poche volte che succede magari succede che guardo la prima pagina e non mi dice un gran che la sfoglio ah giusto era questa mi è già successo con altri topolini visto che sì magari lo leggo lunedì martedì mercoledì a seconda di mercoledì giovedì a volte capita che leggendo tanta altra roba qualcosa sfugga nel contesto nel marasma o magari mi confondo tra massimile a qualcosa di letto nel corso della settimana però in questo caso qui ho il vuoto assoluto e un pochettino e mi dispiace parecchio perché probabilmente non credo che sia una storia che meriti di essere totalmente ignorata ma andiamo avanti e la storia è sempre molto bella questa un classicone intramontabile sulla 313 a mio parere molto ben sceneggiata molto ben realizzata con un massimo di vita in piena forma che vi consiglio di andare a leggere di recuperare nel caso in questa o in chissà quante altre varianti insomma in conclusione è un topolino che ha una forte storia di apertura il settimo corvo è sicuramente una storia che secondo me verrà ricordata nei prossimi anni sarà sicuramente sentita e ripubblicata tra le migliori storie di questo 2019 ma il resto del topolino è piuttosto anonimo si può dare una valutazione molto buona alla prima storia dire che questo topolino vale la pena averlo per questa prima storia ma il resto rimane un pochettino anonimo un pochettino fin troppo tradizionale un pochettino troppo ordinario chiaramente ci sta che ci siano spesso e volentieri delle storie molto ordinarie molto classiche ed è giusto e doveroso perché magari ovviamente non è che tutti leggono tutti i topolini e hanno idea della vastità delle trame che si sono create nel corso degli anni magari anche il settimo corvo può ricordare storie un pochettino più datate ci sta alla grande però in questo caso qui la seconda storia è un cliché dei cliché le brevi sono un po' quello che sono e il resto si è lasciato dimenticare piuttosto in fretta quindi dirvi vi consiglio il recupero di questo topolino qui faccio fatica però la storia di apertura è molto bella quindi valutate voi fondamentalmente se può valere la pena prendere spendere 3 euro per avere un topolino che magari ha questa forte storia di apertura che mi farebbe dire vale la pena averlo ma poi un topolino un pochettino anonimo purtroppo anonimo e niente vedremo cosa succederà nelle prossime settimane nella prossima settimana avremo il ritorno di Fantomius dopo tanto tempo della serie principale ovviamente perché il personaggio è tornato anche già settimana scorsa però ritornerà in pompa magna con una storia interamente a lui dedicata in una situazione completamente a lui dedicata e che sicuramente verrà ripubblicata molto più avanti nel corso della Definitive Collection non so se già alla fine di quest'anno se slitterà piocchettino più avanti però l'idea è che che mi sono fatto che uscirà quasi sicuramente uscirà sicuramente non quasi uscirà sicuramente nella Definitive Collection e quindi staremo a vedere cosa succederà sul prossimo topolino che non mi risulta particolarmente avvincente se non per la storia di Fantomius sperando che possa un pochettino risollevare la situazione dopodiché siamo già a luglio uscirà il maxi evento estivo che se non l'avete visto recuperate in parte la live di mercoledì dove avevamo parlato sia dove ho parlato sia di tutte le novità di anteprima che di quello che è stato detto in Athena Comics praticamente sì potrei fare qualche taglio però rispetto a quell'ora e 40 che è il video penso che comunque il tutto durerebbe un'oretta un'analisi di tutto quello che è stato detto comunque abbondante tagliate nel caso i primi 10 minuti della live dove parlavo di tutt'altro per giusto intrattenere visto che avevo cominciato troppo presto e potete recuperarvi tranquillamente lì se mi ricordo la vedrete in descrizione nel finale di video tra le cose consigliate ti troverete l'anteprima e detto questo noi vi salutiamo dai pop alle mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto condividete fate conoscere la soffitta di camera mia iscrivetevi se non siete iscritti volete altri contenuti dedicati al mondo Disney ma anche ad altro nei prossimi giorni e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao